Quando si parla di boschi e foreste si fa riferimento in termini legislativi a patrimonio agricolo forestale e la definizione centra pienamente il punto, si tratta di un patrimonio e come tale deve essere tutelato, gestito, amministrato possibilmente, quella che è la nostra proposta, a livello regionale per dare un'omogeneità di trattamento e di gestione a tutto il patrimonio che deve essere poi messo a disposizione dei cittadini e dell'ambiente. Per ottenere questo obiettivo due sono le cose fondamentali da farsi. Innanzitutto, in sede di riordino delle funzioni delle province, sarebbe stato necessario accentrare tutte quelle che sono le funzioni in capo alla regione toscana. Questo magari sotto forma di ente o azienda regionale, come era stato già in precedenza e posto come possibile soluzione da parte anche di alcuni sindacali rappresentativi degli operai della forestale. Da questo punto di vista, poi, è fondamentale che ci sia uno stanziamento di fondi congruo a quelle che sono le finalità. Cioè la regione toscana, l'assessore al bilancio e l'assessore Remaschi, devono fare una scelta se investire in quello che rappresenta il 50% del territorio toscano, perché tale è la superficie ricoperta da boschi e foreste in Toscana. Sono attualmente operativi 500 operai forestali in Toscana e ad essi gli è stato dimezzato il contributo. Questo significa minor manutenzione, minor tutela, minor lavoro in quello che appunto noi definiamo essere un patrimonio. È uscita una delibera di giunta non più tardi di ieri sera, cioè esattamente poche ore prima della manifestazione che si è svolta questa mattina e all'interno di questa delibera è stato detto che sarebbero stati dati quei 3 milioni mancanti a raggiungere 7 milioni per garantire un certo livello di approvvigionamento di fondi per quanto riguarda il 2016. Si sta pensando adesso a correre ai ripari per la fine di questo anno, solo perché è stata sollevata al momento la questione, ma in realtà non c'è una visione strategica per quello che è il patrimonio agricolo forestale toscano. Quello che quindi noi del Movimento 5 Stelle lamentiamo è la mancanza di una prospettiva futura per il destino delle foreste toscane. Noi chiediamo una prospettiva futura e per questo faremo pressione sia all'assessore Bugli per quanto riguarda lo stanziamento di fondi che all'assessore Remaschi, chiederemo appunto una prospettiva futura sia per il destino degli operai che delle funzioni e di tutti gli incarichi di tutela e mantenimento di questa importantissima risorsa della regione toscana.